Scusate, ma io come devo cantare? E ora te lo alzi? Me lo alzi? Ho i poteri, vieni, scampato. E allora, ho un problema tecnico. Per chi non lo conoscesse ancora, il nostro Alessandro si presenterà da solo fra un po', perché lui piace fare tutto da solo. Voi non avete idea di quante cose fa da solo. Mi piace, mi piace. Però se volete, all'opponezza, è bello che lo so, vero? Guarda, alle quarta. Ehi, lui, io non so che ti fai. Non mi guardate così perché mi vergogno. Tecnicamente dice, si mi ha frutto. Non so se conoscete la produzione. Anche tu? Mi metti un po' di bassi per favore. Mi ha frutto. Mi ha frutto. No, non so se conoscete la produzione. Ma quindi, cioè, mi ha frutto. Mi ha frutto. Scusa, ma c'è la chitarra in distorsione totale, perché? E' la cassa che sferlai qui. Allora, potremmo fare anche musica di questo tipo, potremmo fare anche musica italiana un po' più impegnativa, del tipo, pazzeroso non andare via, ma non la faremo. Potremmo fare anche musica un po' più eclettica, tipo, non so, conoscete Marco Nasini? O Mango, che ormai non c'è più, oppure possiamo fare le canzoni dei cartoni animati. Ve ne ricordate più o meno? Io vedo una rigenerazione qui degli anni 70-80, quindi vi ricorderete il cartone animato più famoso della storia, della televisione? Qual è il cartone animato più famoso secondo voi? No, non mi sento, non mi sento. La ziga, Lady Oscar, Lady Oscar ce l'abbiamo. Un altro? Lady Oscar ce l'abbiamo. Poi, per esempio, c'era un altro personaggio femminile, di Candy, poi abbiamo Kiss Milicia, qualcuno ha detto, ma il personaggio più importante, quella bambina che era innamorata di un ragazzetto che si chiamava Peter, che era ricordata. Allora, io adesso inizio questa serata senza Eric Clapton, ma l'International World Production e everywhere, noi cantiamo una canzoncina di Heidi. Io la faccio, però vorrei eseguire il vostro polo. Anche la canzone, giusto? Bravo. E sui brati vedeva che il suo avrimente, com'era? Sì, esatto, la cantiamo. Ah, le caprette vi fanno sciamo. Le caprette e le caprette non capivano. Allora, facciamo, perdonatemi, vi vedo tutti adulti, la versione erotica di Heidi. Madre. Che si intitola, per l'appunto, Brava. Ecco, vedo che ci stiamo allineando. Allora. Ci sei, Alessandro? Di cosa siamo? Un piccolo solo così di contorno. Ma in noi cosa sei? Non so perché quando canto Heidi mi viene questa voce poppiglia. Mi informo che non abbiamo mai provato nulla, ovviamente. Tutto improvvisato. Allora, siete pronti? Sì. Versione erotica di Heidi. Quando vi rispondete in coro vi raccomando di sospirare molto la... H. Cioè, è aspirata o sospirata? Prima si aspira, poi si sospira. Allora, grazie, guardi. Allora, non facciamo gli sospirati. Allora... 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 Più forte, più enfasi, ragazzi. Minchia, tu sei star. Heidi... Le caprette ti fanno... E poi torniamo al discorso. Aici picchia, tu c'hai un cuore fantastico, Heidi, Heidi, sovendola, piccola, come sei. Allora, adesso vi voglio tutti in coro. Tu me lo fai in uno swing. Sola, vediamo, vediamo. Versione erotica del ritornello di Heidi. Me lo mettete nel tempo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Continuo fino a 2500. Me la dai o no, 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 me la dai o no. Me la dai o no, me la dai o no. E Heidi... Perché questo era Peter che lo diceva ad Heidi. E Heidi risponde... No, non te la do, no, non te la do, no, non te la do. E tutti insieme... Heidi... Heidi... Io ti vedo proprio felici, ma ti vedo contenti. Alessandro, tu non ti toccare, perché cantiamo la canzone di tutti. E ogni tanto Alessandro si tocca. No, eh, diciamo che si mette dove. Chi mangia come si so. Allora, un'altra canzone che voi mi ispirate, noi andiamo tutta l'improvvisazione. E vedendovi così, Guy, Giulio e Soliretti, mi ispirano una canzone che si intitola Felicità. Me la ricordate? Scusate, qualche parolaccia è ammessa o dobbiamo censurare? Però non è effettivamente... Possiamo dirla? Allora stasera facciamo sirata vastasa, Alessandro. Non esagerare. Non esagerare. Non esagerare. Non esagerare. Felicità! Questo cuore nomina su una pecchina, la felicità. Scavalcare un cancello, lasciarci un giallo, la felicità. E mangiare un pelino con dentro un bambino, la felicità. Felicità! Felicità! Sento nell'aria c'è già questo grande profumo di... cosa avete capito? Ma nonché state ridendo questo grande profumo di... di felicità. Ma c'era sempre... c'era sempre quella canzone dei cartoni animati, che era Chi smilicia, ve la ricordate? Non so perché... Io non me la ricordo, Chi smilicia. Chi smilicia... Vediamo, vediamo, vediamo come la intonate. Vediamo, Davide. A cappella? E ora deve andare. Continua. Allora... Allora... Allora, io mi do il tempo. Ritornello. Il ritornello è questo, ma la strofa come faceva? Vi ricordate il giorno? Vi ricordate la strofa? Un giorno di pioggia... Ma sapete... Vengognatemi! Ho finita la droga, la droga ricorda e si scontra, non dice così... E qui c'è la variante! Il dolce, il ritornello di... Nel loro pensiero la c'è... Scuderatevi con il ritornello! Vai! Chi smilicia... Sono innamorati... E non vorrà partire... E non stasso guardi... Ma vi ricordate qual era il problema di incontro in chi smilicia, ragazzi? Ora, scusate, un attimo. Lui era quello porciutto... Aspetta, aspetta, ce lo dice lui! Era un uomo o no? Era un uomo! Era mezzo uomo e mezzo donna! Abbiamo scoperto stasera che diceva un transo! E non è un buon buso! Aspetta! Discela bene questa cosa, scusa! Diceva un uomo e mezzo uomo e mezzo donna! Ma l'ho capito, vi risulta che lì c'è fosse un po' uomo e un po' donna? No! Vai, senti! Ma non è che chi mi ricorda... Scusami, il cattore c'è stato porno! Tu, secondo me, ti ricordi il cattore c'è stato porno! Allora, questa è letteratura alternativa, eh? No, io mi ricordo... È la Lady Oscar! È la Lady Oscar! Ma abbiamo anche Lady Oscar, ora te la cambiamo! Ma intanto, scusate, mi piacciono le canzoni del cartone? Grazie, ragazzi! Mi piace! Allora, Lady Oscar! Vai, senti! Le feste alla corte di Francia! Ma la sanno tutti, siete stupendo! E poi come faceva? E tuo padre voleva un maschietto, ma hai vestita da tu... Variante, variante! Non hai il bene, ma un bel fioretto! Oscar del fioretto, tu... Ragazzi, attenzione perché la variante è sempre in agguato, quindi non corregge! Lady Oscar non si capiva se fosse maschio o una femmina! Quindi, o Lady, Lady, o Lady, 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 con che cosa può far rima? Proviamo un paio di tentativi, vediamo se le indovinate! Lady fa rima con... Ah? Baby! Non è esattamente quella? Digli un'altra, se no me la devo dire io! Lady fa rima con... Oh Lady, 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 Lady La vedi oppure non la vedi? Oh Lady, 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 Lady La vedi oppure non la vedi? Tra lì! Va bene, adesso concludiamo, facciamo una canzorcina seria In una sonda! Ragazzi, facciamo la canzone seria, ok? Oh, what I'm gonna do to make you love me Cosa posso fare per farti innamorare di me? Oh, what I'm gonna do to make you care Ah? Preciso, no? Do you think my English is not very good? I can speak English for you in all night, no problem! Oh, what I'm gonna do Well, it strikes me Yeah I'll wait a fire that you know does It's a- La canzone si intitola Luzelin de la Comare, la conoscete? C'è molto brusio, per fare questa canzone ci vuole concentrazione, c'è molto brusio, allora, Luzelin de la Comare Questa canzone la cantavano Renato Pozzetto e un altro, Cogli Renato e Cogli Renato Non sapea dove morare, si è posato sulle spalle, vediamo se l'ha indovinata, Luzelin de la Comare Ritornele insieme E un po' più giù, voleva volare, Luzelin de la Comare E un po' più giù, voleva morare, Luzelin de la Comare Ritornele insieme Grazie a tutti. Quindi si è posato sulle tette, brava, e non si è rimbattato a lei. E io farei rimbattato, bravo. Tutti insieme? One, two, three. E io farei rimbattato a lei. Mi piace perché sei il colpone della serata e sei stupendo. Tra noi ci guardiamo. Si è posato... Come si chiama? Eh, diccelo tu che sei il colpone della serata. si è posato no, sull'urciava ehi, che ma siamo male, ma siamo quasi da sebedevo si è posato su no, allora da fare lo zebedevo io sono pulito quindi io dal profondo della mia educazione, con postezza Alessandro tu mi conosci grazie io lo chiamo il brava il brava il fiorellino si è posato su un fiore tu sei, vai con la orma e vediamo se è indovinata se voleva provare più su più in giù, o proprio là e con questa concludiamo e mi lascio e un po' più no, sul fiorellino e un po' più no, sul fiorellino e finisce così e proprio lì e proprio lì volevo volare più in segno e l'altro mare e proprio lì volevo volare più in segno e l'altro mare grazie grazie vi giuro che nella vita non faccio altro cioè non deve solare per vivere vai che sia chiaro ma comunque se volete non faccio i miei uomini sessuali migliori uomini sessuali no dai di prego dai 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 l'ultimo dai ma io li volevo lasciare con l'uselina e la comanda voi volete far fare cose da scarpe dai 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 ma si stai su Titter dai dai facciamo di questo dai 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 vai vai facciamo di questo dai 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 vai vai aspetta vi faccio luce dei miei occhi allora io ce li ho dei figli di particolare a conclusione io ve li posso sottoporre e voi li scegliete ragazzi perché noi stiamo per lasciarci ok? siete stati bene il nostro vi siete divertuti vi siete spazzati